Nemo, lo so che è difficile, è diverso, è spaventoso, ma credo che sarebbe sbagliato se ti chiudessi del tutto al mondo, come ha fatto tuo padre. Ma di che stai parlando? Tuo padre era diverso prima, poi quando tua madre è morta... Mio padre non si era chiuso al mondo. Nemo è andato su un'isola. Non fai mai da qualche parte o fai qualcosa? Tu ce l'hai qualche vero amico? Le maniglie non contano. Dico soltanto non avere paura di... non lo so, divertirti di nuovo. Non ho paura di niente. Io vado a dormire. Cosa? Sono solo le cinque e mezza. Lo so che vuoi dormire sempre perché sei triste. Conosco la sensazione. Ma la vita è vita quando sei sveglia. Non la mia!